Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Quest'oggi in apertura ci occupiamo della questione della demedicalizzazione del 118, perché sulla questione è intervenuta Adriana Ricciardi, responsabile regionale del servizio di emergenza-urgenza, che appunto fa chiarezza e dice basta allarmismi, gli infermieri sono formati per garantire livelli massimi di sicurezza. L'ha ascoltata per noi Antonio Leone. Il 118 Molisano è efficiente, con o senza medici sulle ambulanze, e ci mette la faccia Adriana Ricciardi, responsabile regionale del servizio emergenza-urgenza. Dopo mesi di discussioni legate alla demedicalizzazione di alcune postazioni, l'ultima in ordine di tempo, quella di Venafro, la Ricciardi ha sottolineato che infermieri e volontari che operano sui mezzi di soccorso sono stati formati per intervenire e garantire livelli massimi di sicurezza. Con il nostro servizio lavorano infermieri ormai da 25 anni formati per l'emergenza, che sono in grado assolutamente di prestare il primo soccorso in tutte le situazioni di emergenza. Il protocollo India, che prevede l'assenza di medico nella postazione del 118, ma che è pronto ad intervenire in caso di necessità, è ormai riconosciuto a livello internazionale per questo motivo. Oltre al Molise, sono diverse le regioni italiane che lo hanno già adottato. Noi comunque mandiamo infermieri formati per l'emergenza, ma ci sono regioni che altrettanto lecitamente hanno ambulanze con solo il personale volontario a bordo. Considerate che le manovre di BLS, il primo soccorso, le possono fare anche l'AISH, cioè noi le insegniamo anche a personale non sanitario. Poi è chiaro, per carità, ogni figura professionale ha la sua competenza, però l'infermiere sull'ambulanza è sempre in collegamento con il medico in centrale operativa. Ovviamente la presenza del medico è un fattore in grado di fornire ancora maggiori garanzie e lo scoglio, però resta ancora la carenza di personale, soprattutto nell'ambito dell'emergenza urgenza. E vediamo ora insieme quali sono le notizie delle ultime ore. Iniziamo dagli online, abbiamo aperto la pagina di TVI Molise, dove si può leggere della visita in prefettura da Franca Tancredi, c'è stato appunto il console di Francia. E poi a Isernia, Incomi e Lodi, Inquestura, sull'articolo troverete le foto, eppure la campagna elettorale di Aldo Patriciello, che in questa ultima occasione ha abbracciato appunto la Valle del Volturno, ma c'è anche la cronaca con lo spaccio di cocaina, un isernino è stato condannato. Il quotidiano del Molise, liste di attesa, il caso Molise su Mediaset, l'ASREM non ci sta, diffidiamo, Greco del Movimento 5 Stelle, dice se paghi hai diritto a curarti anche tra due giorni, se non paghi devi aspettare un anno. L'azienda sanitaria dice veicolato un messaggio errato e sono stati lesi operato ed immagine. Pronte dunque azioni legali. Lo stesso argomento lo leggiamo anche appunto su Molise oggi, con il titolo fuori dal coro che spara sull'ASREM, di Santo non perdona. La puntata è andata in onda appunto lo scorso 8 maggio, in cui si è evidenziato come pagando le visite vengono fissate dopo due giorni, altrimenti bisogna aspettare un anno. Immediata la presa di posizione dell'azienda sanitaria regionale, il direttore Giovanni Di Santo ha detto si continua a gettare fango sull'ASREM, si legge appunto in una nota di Di Santo, l'azienda sanitaria regionale molisana con estrema amarezza, si ritrova investita da notizie tendenziose, nonostante la piena disponibilità al confronto e alla risoluzione di qualsiasi problema, perché nel programma, lo abbiamo detto, praticamente si è evidenziata l'allungaggine delle liste d'attesa in Molise, manipolato nella sua integrità. Però a margine giornalisti ed operatori sono stati accompagnati in realtà gli sportelli CUP della sede del capoluogo, per dimostrare invece che nella nostra regione le prestazioni vengono garantite, che se un esame, una visita o altra ancora non sono effettuabili presso una certa struttura, in un determinato luogo, nei tempi dovuti, l'utente viene veicolato in modalità istituzionale altrove, ma sempre sul territorio regionale, pur di usufruire della prestazione come da codice inserito sull'impegnativa. Tutto questo però non è appunto emerso nel contributo trasmesso su Rete4. Andiamo ora su Futuro Molise, siamo sulla home page Proziel Tour 2024, la Elcom distribuzione di Venafro incontro sulla transizione ecologica, e poi transumando con le capre di Valerio l'andata edizione 2024. Sempre su Futuro Molise leggiamo del Santissimo Rosario, la prossima settimana assemblea pubblica sul 118, temi cruciali per la salute appunto di tutti, quindi martedì 14 maggio l'attesa importante assemblea per affrontare i temi di massima attualità della sanità pubblica dell'area Venafrana. E poi la nostra pagina Facebook, dove troverete sempre aggiornate tutte le notizie in tempo reale, si legge come sulla pagina di TV Molise della visita in prefettura del console di Francia. Andiamo ora sui cartacei, siamo sulla prima pagina di Nuovo Molise, Berlusconi in affari con la filiera di Risio, la partecipazione societaria nella distribuzione dei SUV dagli occhi a Mandorla, di cui il gruppo Automotive disernia il grande distributore nell'alternativa a Stellantis, cercata dal governo l'investimento del fratello del Cavaliere Paolo nell'auto cinese. A proposito di auto, Marsilio rilancia con Stellantis la due giorni dell'Automotive, l'Abruzzo, prima regione in Italia per produzione di veicoli commerciali con 8 miliardi di fatturati e 23 mila occupati. A centro pagina il Molise, stonato fuori dal coro. La diffida appunto per il fango gettato sulle liste d'attesa molisane e lo scontro dell'Asrem con il programma di Mediaset. E poi la denuncia, Ance sfida la beffa del superbonus, preoccupazione e sconcerto da parte del presidente Corrado Di Niro. E poi questa importante ricerca Neuromed, la proteina che predice il cancro, la scoperta appunto dell'Istituto di Ricerca Molisano, uno studio italiano condotto su 18 mila persone, ha dimostrato che la presenza di bassi livelli di albumina è associata alla mortalità per cancro e malattie cardiovascolari negli individui di età pari o superiori ai 65 anni. Spostiamoci ora invece su primo piano. Servizio Taglia e Cuci, l'Asrem di Fida a Rete 4, le telecamere di fuori dal coro a Termoli per le liste d'attesa, col ticket visita impossibili, a pagamento in pochi giorni, l'azienda Replica, prestazioni disponibili, ma al Veneziale e a Santa Croce di Magliano. La direzione strategica attiva quindi le tutele legali, notizie tendenziose e manipolate, basta fango. A centropagina, No Entrasti, Sernia Capitale di Cardiologia e Chirurgia Vascolare, entra nel vivo il simposio che mette a confronto oltre 50 specialisti di tutta Italia. Le altre notizie in prima pagina, 5 Stelle e K.O., Paola Felice infatti da Forfè, la sindaca non è candidata, a Termoli grillini spaccati sulla vigilante, lista dunque a rischio. E poi Palazzo Vitale, fondi per ripopolare i borghi mai spesi, la giunta all'impegna per altri scopi, a Guglionesi invece omaggio alle vittime del terrorismo, i familiari di Rivera, da Mattarella e Meloni. E poi l'elezione confcooperativa, Riccardo Terriaca nel board nazionale, Ururi, orto d'autore al CIBUS, Sostenibilità Ambientale e Responsabilità Sociale. E infine, quest'indagine della polizia, perché è giallo nelle campagne di vinchiaturo, pestato da tre uomini con una mazza di ferro, 50enne grave, al Cardarelli. Ma andiamo all'interno di primo piano, liste d'attesa in Tramenia, Asrem diffida Mario Giordano, lo abbiamo già detto, una troupe di fuori dal coro a Termoli, visita impossibile col ticket, solo a pagamento, la direzione aziendale dice, servizio manipolato, prestazioni effettuabili a Isernia e Santa Croce. E poi il successo della settimana rosa, con lo screening al consultorio, ancora stoppa la decontribuzione, Boccarlo dice, ulteriori rischi per il nostro meridione, la segretaria della UIL, parla di un quadro critico, servono politiche di rilancio. Andiamo a pagina 3, fondi a chi vuole ripopolare i borghi, rievocato l'avviso, soldi destinati ad altre misure, centinaia le domande per il reddito di residenza attiva, ma l'iter è fermo da anni, progetti economicamente inattendibili, l'aggiunta volta pagina. E poi rete oncologica, soddisfatte le associazioni, siamo pronti a dare il nostro contributo, cittadinanza attiva, AIL e l'ILT, Campobasso, attendono la convocazione del coordinamento. Andiamo ora a Campobasso, aspiranti consiglieri, è il momento della verità, oggi e domani si scoprono le carte, 12 le possibili liste in campo, non tutte al completo, il sindaco uscente, felice, rinuncia. Alla sfida è poi nuova vita per la via Matris, all'interno un centro educativo ambientale, e poi si parla del bilancio partecipativo, Roberto Gravina, soddisfatto per il BIS. Andiamo a Isernia, No and Trust, esperti a confronto su cardiologia e chirurgia vascolare, partita la tre giorni del simposio bienale medico-scientifico, all'Europa oltre 50 professionisti, provenienti appunto da tutta Italia. E poi il prefetto Tancredi, che incontra il console di Francia, mentre presso la questura, consegnati 26 riconoscimenti premiali agli agenti di polizia. Andiamo avanti, siamo ora benafro, pascolo abusivo nel Parco dell'Olivo, dopo sette anni ancora nessun sequestro, la denuncia del presidente dell'ente Emilio Pesino e di diversi proprietari e allevatori, interessata l'autorità giudiziaria. E poi transizione energetica, confronto tra cittadini addetti ai lavori, all'incontro anche l'assessore regionale Michele Iorio. Bene, andiamo ora sulla pagina di Termoli, i finanzieri di mare donano sangue alla sezione Avis, collaborazione tra le due realtà ieri al porto, e poi il Movimento 5 Stelle in fibrillazione, la lista infatti è ancora in bilico, difficile trovare la quadra per le resistenze della base, rispetto alle scelte compiute, quindi ore decisive sulle comunali. E poi entra nel vivo la festa parrocchiale di Santimotio, l'intronizzazione. Bene, con la pagina di Termoli chiudiamo primo piano, e chiudiamo dunque le notizie regionali, per spostarci invece sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, siamo sul Corriere della Sera, che apre sulla questione della Ministra Roccella contestata, infatti bufera, la Ministra dice io censurata, il Colle dice è contro la civiltà, Meloni, sciò, ignobile, gruppo di studenti impedisce l'intervento agli stati generali della natalità, solidale il centrodestra, distingo a sinistra. E poi continua l'inchiesta su Toti, venti imprese nel mirino dei PM, Crosetto contro le Toghe. E poi quanto accaduto a Milano, gravissimo un poliziotto appunto accoltellato, attenzione, sala, governo, il sindaco dice fatto poco, la replica strumentalizzata. E poi l'avvertimento di Biden a Israele, freno su Rafa, o stop alle armi, però Netanyahu dice, risponde andremo avanti da soli. E poi Putin la parata, nessuno può minacciarci. E cita lo scontro globale. Andiamo ora sulla Repubblica, il titolo, la cassaforte di Toti, la procura indaga su oltre 2 milioni di euro versati nell'arco di 7 anni da imprenditori al governatore della Liguria, Fratelli d'Italia e Forza Italia mettono nel mirino la gestione degli appalti del ministro Salvini, e il record di finanziamenti privati alla Lega. Mattarella intanto difende la Costituzione, scritta con saggezza, ed è attuale a centro pagina. Gli stati generali della natalità, roccella contestata dagli studenti, abbandona il forum e dice, io, censurata ancora Biden, che dice niente bombe per Rafa, Netanyahu risponde, faremo da soli. Andiamo ora su Il Fatto Quotidiano, il titolo a centro pagina, la sai l'ultima, se fatturi le mazzette, non è reato, la difesa Toti, intanto la nuova accusa, il finanziamento illecito, e Salvini teme, Rexi Colucci pagava pure la Lega, il presidente voleva entrare in Fratelli d'Italia o in Forza Italia, Spinelli dopo i favori, il mio gruppo ora vale, un miliardo in alto, Rafa, Rissa, Fra Biden e Bibi, fatto saltare il 50% di acqua, non entrate, faccio da solo, e la denuncia a Laia. Andiamo ora invece su Il Sole, 24 ore, PNRR, obiettivi di giugno solo al 28%, a rilento infatti la tabella di marcia, ma ci sono segnali di accelerazione della spesa, e poi Marchesini dice, per il super bonus no a interventi retroattivi, per il vicepresidente di Confindustria, a rischio la fiducia imprese. Istituzioni, le altre notizie, ancora Israele che replica Biden sul blocco delle armi, avanti anche da soli, e poi il 21 maggio la decisione, Irlanda e Spagna sono pronte a riconoscere lo Stato di Palestina. Andiamo sul mattino di Napoli, sangue a Napoli e Milano, quindi la violenza nelle città, agguato di Camorra a Capodimonte, tre feriti, a Secondigliano colpito il figlio di un ex boss, immigrato a coltella a poliziotto salernitano, alla stazione di Lambrate, doveva essere espulso. l'intervista in proposito, troppe armi in giro sono necessarie, norme più severe, poi il focus, rimpatri, il sistema è un colabrodo, Asan l'ultimo caso, e poi a centropagina, far tacere e contro la civiltà, Mattarella quindi solidale, con la ministra Roccella, contestata agli stati generali, della natalità. Bene, andiamo avanti, andiamo a vedere qual è l'apertura invece, della stampa di Torino, Mattarella sempre libertà di parola, a proposito della natalità, Roccella contestata lascia la sala, io censurata, dove sono i difensori discurati, il presidente alla lapide di Moro, non mi esprimo sulle modifiche, ma la Costituzione fu scritta con saggezza. In alto, Conte a Genova, ritorno di Tangentopoli, intervista al presidente del Movimento 5 Stelle, il ministro Crosetto attacca i PM, e con questa logica, si arrestano anche i giudici, poi il Medio Oriente, Israele contro Biden, dopo lo stop alle armi, stancano a massa, vinceremo da soli. Lasciamo anche la stampa, per andare su avvenire, un giubileo per ridare la speranza al mondo, Papa Francesco consegna la bolla di indizione, dell'anno santo, una porta santa, anche in un carcere. E poi ancora l'ultimatum di Biden, stop alle armi se si colpisce Rafa, Netanyahu risponde, andremo avanti anche da soli, e Putin intanto mostra i muscoli, scontro globale, sei minacciati, sfilata di 9 mila soldati, sulla Piazza Rossa. Ancora il caso Roccella, contestata e zittita, Mattarella dice incostituzionale, agli stati generali della natalità, la proposta di un'agenzia dedicata. Andiamo ora su il giornale, la Roccella zittita, questo è il titolo di taglio alto, Mattarella e gli incivili, ministra contestata di stati generali della natalità, solidarietà di Meloni e Colle. E poi ancora l'inchiesta in Liguria, le carte su Toti, non ha favorito gli affari Spinelli. A centropagina ancora Netanyahu che snobba Biden, avanti senza l'aiuto degli Stati Uniti, basta Arbis, entrata e Rafa, dice Biden. E poi Milano fuori controllo, città sotto sciocca, gente accoltellato, immigrato aggredisce poliziotto, che è grave, e Sala scarica la colpa. Andiamo ora su il manifesto, il titolo che campeggia a centropagina, dissenti chi parla, agli stati generali della natalità, ragazze e ragazzi delle superiori, contestano la ministra della famiglia Roccella, e le politiche prolife del governo. Apriti cielo, lei se ne va, e parte un coro sdegnato, cui si unisce il presidente Mattarella, ai censori, sarebbero gli studenti. E poi Israele senza freni, Rafa a ogni costo, le pressioni di Biden per ora non bastano, 100 mila in fuga dalla città sotto attacco, poi il reportage dai villaggi colpiti, Cisgiordania, nel mirino dei coloni. Andiamo ora a leggere invece la prima di Libero, agente accoltellato a Milano, quindi clima d'odio su di noi, polizia contro la sinistra, l'aggressore candestino in Italia da 22 anni, sala lancia accusi al governo, ma i sindacati lo smascherano, ci hanno lasciati da soli, e poi ha evitato parlare, violenza femminista contro la Roccella, stop al convegno. A centropagina, i versetti Savianici, il Salone del Libro inizia con le critiche, di Rouch, di Alla Meloni. Ancora, andiamo avanti, e andiamo a concludere la nostra rassegna, con la Gazzetta dello Sport, il titolo che segue, quello della Gazzetta di ieri mattina, e due, infatti, il titolo, in finale di Euroleague, dopo la Fiorentina, in conference, storica Atalanta, Roma, impresa sfiorata, a Marsiglia, travolto a Bergamo, 3 a 0, il 22 maggio, Gaspa a Dublino, contro il Bayer, Viola ad Atene, con l'Olimpia, cosse, e poi, in Germania, da 2 a 0, a 2 a 2, doppio Paredes, sul rigore, un autogol, e addio ai sogni, ancora Varella, firma d'oro, sarà l'italiano più pagato, in Serie A, alle 20 e 45, l'Inter a Frosinone. Bene, termina qui la nostra rassegna, come sempre vi ringrazio per averci seguito, e vi rimando all'appuntamento in diretta, delle 13 e 30, con il nostro telegiornale, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Benvenuti all'oroscopo di oggi, venerdì 10 maggio, ariete, Mercurio nel segno, e una luna favorevole, renderanno questo periodo, di quasi metà maggio, sicuramente molto accattivante, tenetevi pronti. Toro, le stelle vi hanno indotto, a cambiare percorso, e di iniziare tutto da zero. Dal 15 maggio, avrete Mercurio nel segno, occasione per risolvere, delle grosse problematiche. Gemelli, la luna porterà, una ventata di freschezza, e di armonia, nella vostra vita, dopo un periodo burrascoso, in cui ne avete viste, di tutti i colori. Cancro, presto, tra sabato e domenica, avrete la luna, a darvi manforte, consentendovi, di vivere un weekend, di riscatto, soprattutto, se ultimamente, avete vissuto, una situazione critica, dal punto di vista, professionale o sentimentale. Leone, tutti coloro che hanno una storia, molto complicata da gestire, dovrebbero essere più prudenti. Nell'ultima parte del mese, arriverà Venera a mettere a posto le cose, ma fino ad allora, servirà un po' di diplomazia. Vergine, ci sono importanti problemi, legati al presente, che dovrebbero essere risolti, con maggiore impegno e determinazione. A volte bisogna dimostrarsi maturi, e fare buon viso a cattivo gioco. Bilancia, nel corso del prossimo fine settimana, dovreste cercare di frequentare, solo persone positive e costruttive. Quelle negative, in realtà, non fanno altro che trasmettervi, angoscia e nervosismo. Scorpione, vi sentite un po' oppressi dagli eventi, per via di opposizioni planetarie, che vi stanno complicando la vita. Dovete però guardare, alla seconda parte di maggio, con grande ottimismo. Sagittario, il nervosismo è stato il tema dominante, dell'ultimo periodo, per via di alcune opposizioni, che dureranno ancora nel corso delle prossime ore. Già da sabato, però, le cose cambieranno radicalmente, tenete duro. Capricorno, è vero che le giornate di sabato e domenica, saranno un po' sottotono, ma già dal 15 del mese, le cose miglioreranno, grazie al supporto di Mercurio. Acquario, nel corso delle prossime ore, ci sarà qualche momento di nervosismo, da affrontare con maturità e giudizio. Pesci, la dissonanza della luna, si farà sentire in questa giornata, ma già da sabato, le cose andranno decisamente meglio. Sole, luna, venere, Marte e Giove, saranno dalla vostra parte. Questa rassegna stampa, è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center 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 di Agropoli.